Tutti ragazzuoli, qui il vostro Giammi 94 e bentornati sul mio canale Sono su Instagram ragazzi, sì, mi sono messo ieri sera E che non tenevo un cazzo da fronte Comunque, dato che non ho ancora fatto nessuna foto su Instagram Ho deciso di caricare questo video e farla, e fare la prima foto dedicata al canale Quindi, venite tutti insieme, venite tutti insieme Dai, ti facciamo un selfie, un selfie, un selfie Ci facciamo un selfie tutti quanti insieme Per augurare l'inizio anche di questo programma E senza perderci in chiacchiere, dove sta Instagram? E così stronzetto, non vi preoccupate perché la mia pagina di Instagram me la metto in descrizione in questo video Comunque, senza perderci in chiacchiere ragazzi, facciamoci la nostra prima foto Ci arriva in ritardo, ragazzi, io le cose le faccio in ritardo Ma che devo fare, fa niente Tutti quanti qui, tutti quanti qui E via Ecco qua ragazzi Ed ecco qua La facciamo di che colore? Normale, la facciamo normale Che si vede di merda pesante Però, no, niente Questo era un blog Non so anche se si è capito Forse Volevo parlarvi anche di una cosa Non lo so Non lo so però Se mi metto Però forse Ricreavo anche l'account su Twitter Però non lo so Non lo so perché Twitter non è che tanto mi piace Comunque Questo era un video così Ma proprio alla cazzum Ma proprio alla cazzum Proprio quei video che non hanno né capa né coda Ho scaricato un giochino Un giochino gratis Grazie ancora per il vostro supporto Ragazzi E mi raccomando Continuate ad iscrivervi Mettete mi piace Commentate Condividete su tutti i social network Anche su Instagram adesso E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao Un selfie